Musica Buongiorno a tutti, sono Stefano Guzzardo, rappresentante della casa editrice di Hermes. Siamo qui quest'oggi a presentare il cofanetto del professor Faronato, una realizzazione uscita a gennaio 2014 ed è composta da due volumi. Il prezzo di listine è di 220 euro, ovviamente in ambito congressuale possiamo fare delle ottime offerte. Ringraziamo il professore per la possibilità che ci è stata data di essere presenti a questo congresso per promuovere al meglio le varie pubblicazioni e per valorizzare il bellissimo prodotto che è stato appena realizzato. Grazie a tutti, buona giornata.